salve a tutti watch kebari io sono super joe master ed oggi bentornati su plans versus zombies nello scorso episodio abbiamo affrontato una normalissima battaglia con le cavolpulte le chicco pulte e abbiamo anche visto l'utilità del chicco di caffè in pratica il chicco di caffè fa svegliare le piante quelle notturne e per esempio appunto nello scorso episodio abbiamo usato l'ipnofongo in più abbiamo anche affrontato una battaglia molto divertente in cui abbiamo usato le venere mastica zombie le ciliegie esplosive e le zucche e in più alla fine abbiamo sbloccato anche l'aglio quindi adesso andremo a vedere appunto che cosa riesce a fare l'aglio e vedremo un po' se incontreremo nuovi zombie e vedremo un po' quali piante sbloccheremo quindi avventura ok ragazzi eccoci qui ok c'è uno zombie lì molto grosso che sembra che guida una specie di macchina ma c'è anche una catapulta cos'è ci sono pure delle palle da basket ok ho un po' paura di quello zombie sapete allora prendiamo adesso il girasole vaso cavolpulta chiccopulta zucca poi prendo anche l'aglio il gialapegno lo schiaccio e lo schiaccio zombie è meglio sì prendiamo lo schiaccio zombie va no il gialapegno voglio il gialapegno però vabbè facciamo in questo modo ragazzi però forse al posto del gialapegno forse è forse facciamo una cosa via la zucca e ci prendiamo la barriera di noce ok prepariamoci ragazzi ok eccoci qui si parte via rastrello ok prepariamoci perfetto mettiamo il primo girasole ragazzi ok servono 50 soli per per l'aglio ragazzi attenzione non mi ricordo proprio che cosa fa l'aglio c'è sì mi ricordo in pratica fa cambiare fila gli zombie dovrebbe essere giusto va bene ragazzi penso che adesso lo vedremo infatti lo vedremo in atto il nostro amico zumbiaio vabbè scusate non so cosa sto dicendo ma lasciate perdere ok ora vediamo un po l'aglio che cosa fa eccolo abbiamo messo ovviamente laio puzza un casino quindi appunto vede un po arriva lo zombie oddio che faccia e infatti ha cambiato fila ha cambiato fila ragazzi o mio dio quindi in pratica se ho capito bene se per esempio arrivano tanti zombie non so se uno zombie sta arrivando contro una una fila di piante che fa letteralmente schifo poi si usa l'aglio lo zombie va ad un'altra fila che incontra delle piante super potente lo zombie muore in pratica dovrebbe essere così però sinceramente l'aglio non mi sembra proprio così tanto bello come pianta davvero da però al prova fa niente dai ora attacchiamo ovviamente a bellissime le cavolpulte sempre potenti e sempre inarrestabili ok quello zombie è stato eliminato per bene e ora ecco lì uno bellissimo zombie segnaletico zombie segnaletico perfetto continuiamo a lanciare i cavoli lanciamoli ancora mo prendiamo un altro fatti un altro cavolpulta vai continua continuo ragazzi continuiamo mo aspettiamo ragazzi perché mi sa proprio che qui ci mettiamo no ho sbagliato non volevo mettere lo schiaccio zombie beh usiamo l'aglio no perfetto è proprio quello che volevo ma vai così ragazzi allora mi sta proprio piacendo l'aglio ok perfetto adesso credo di fare una fila di chicco pulte sapete penso proprio di sì sapete togliamo un attimo l'aglio da qua vedete usiamo il gelapeno così questo qua lo eliminiamo per bene la c'è uno zombie segnaletico infatti aspetta un attimo perché mancano ancora altre chicco pulte ok mettiamole poi potere alle pannocchie bam o no mi sta mangiando mi sta come è osato brutto schivoso non osare mangiare i miei passi al capito e poi da notare il cliente i vasi sarebbero anche vivi in realtà è perché non si vede tanto bene però avrebbero anche la bocca i sti amici basetti aspetta un attimo mettiamo qua l'aglio per esempio eva così aglio puzzolentissimo e no vabbè fa niente dai ok lo zombie cambia e lo sconfiggiamo ovviamente troppo divertente ragazzi troppo divertente mettiamo un altro aglio qui continuiamo a lanciare cavoli e tantissime altre cose lo zombie cambia ora lo blocchiamo vediamo vediamo se ecco morto ovviamente ora ecco qua chicco pulta perfetto avrei anche le barriere di noce ovviamente vediamo ragazzi vediamo un po come riusciamo a fare anche questo perfetto si va avanti ok sta arrivando una gigantesca orda di zombie che anche la prima una su due in pratica ecco lì lo zombie con la bandiera vai perfetto attacchiamo attacchiamo gli zombie boom 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 monetina tutta per me decimila 150 soldi vai così ragazzi super potenti inarrestabili togliamo qui l'aglio perché tanto ormai no oh oddio c'è lo zombie lo zombie no mi sta lanciando le le palle da canestro e mi attacca pure le piante come osi brutto schifoso mi sta attaccando i girasoli esploso avete visto quello zombie con la sua catapulta lancia le palle da basket che colpiscono i girasoli e potrebbero anche ferire brutto maledetto maledetto ok allora mettiamo qua un altro caso noi continuiamo a lanciare cavoli il cavolo e burra burra vai così perfetto altri zombie in arrivo stiamo molto attenti non dobbiamo permettere a questi schifosi di di arrivare alla fine non riuscirete mai e poi dico c'è è una cosa bellissima perché un attimo solo barriera di noce vediamo se se le palle del nostro caro amichetto grosso con quella macchina riusciranno essi infatti passano sopra la barriera di noce però però vedete ragazzi c'è con tantissime piante quello zombie c'è muore e veramente muore subito viene esploso è una cosa bellissima sapete ok perfetto ragazzi noi andiamo avanti un'altra barriera di noce qua va beh ragazzi che questa fila questa composizione qua è simile all'altro è simile l'altra battaglia dello scorso episodio ma comunque mi piace comunque allora ragazzi e vediamo un attimo ok adesso finiamo ragazzi ora finiamo mettiamo per esempio qui questa molto bene ragazzi e ora c'è l'orda finale ok ecco lì lo zombie che ci lancia no brutti zombie schifosi devo eliminarmi al più presto devo eliminarli al più presto che siamo cavoli pulte usiamo tutto quanto occhio ragazzi attenzione perché ha ho perso un girasole aiuto ok questo è abbastanza rischioso spero tanto che le barriera di noce riusciranno a resistere brutti maledetti no ecco un altro girasole andato perfetto perfetto ragazzi ok eliminiamoli occhio aspettate un attimo ragazzi scusate se state sentendo tipo delle delle grida ma non è colpa mia ragazzi sono di là che stanno gridando oddio ragazzi manca solamente quello brutto zombie maledetto che è esploso e abbiamo sbloccato una nuova pianta che bisogna usare 100 soli per utilizzarlo si chiama rapa ombrello protegge le piante vicina da zombie d'assalto e catapulte wow quindi con questa pianta in pratica è tipo una specie di ombrello gigante che può proteggere appunto le piante dai zombie d'assalto e anche dallo zombie con la catapulta che appunto lancia le pale da basket che avevo incontrato prima bello questa cosa sì che mi piace sono solamente a 10 minuti ragazzi direi di andare avanti ovviamente ok eccoci qui col prossimo livello eccolo la lo zombie d'assalto e vedo anche che ce lo zombie con la catapulta allora prendiamo adesso le piante quelle normali questo questo ci prendiamo anche la rapa ombrello l'aglio lo schiaccia zombie e la barriera di noce ok perfetto ragazzi prepariamoci è l'ora di piantare bene togliamo 20 questi qua ok primo girasole messo ok molto bene ragazzi stiamo attenti molto attenti ok questo qua ci sono 33 orde giganti di zombie ai 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 ragazzi sarà un po tosto sapete ragazzi sarà un po tosto allora mettiamo qua lo schiaccia zombie per il nostro amichetto così lo eliminiamo per bene ok sono un telefono ma io non vado a rispondere ok moneta d'oro ragazzi 10.230 monete molto molto bene ok ragazzi noi andiamo avanti mettiamo questo ok ragazzi e andiamo avanti ok qua abbiamo il nostro amichetto girasole bello un attimo solo ragazzi che vediamo qualche culta ora ragazzi un attimo vado a fare una cosa ok ragazzi sono tornato scusate ma dovevo andare in bagno ok continuiamo ragazzi comunque scusate se prima avete avete sentito il telefono ma ragazzi c'è problemi tecnici ma lasciate perdere ok mettiamo avanti ragazzi la rapa ombrello non so dove metterla sapete però forse è meglio proteggere i giassoli o d'altre piante non lo so come avete ben notato ragazzi ho iniziato a mettere le chicco pulta al posto della cavo il pulte perché ci avevo voglia quindi adesso manca solamente l'ultima chicco pulta e possiamo andare avanti ragazzi che co pool testo cercando le chicco pulte e eccolo qui chicco pulta completata ragazzi molto bene ok ragazzi noi andiamo avanti lanciamo sempre i chicchi di mais e il burro ovviamente ragazzi il burro è sempre potentissimo non si può mai battere continuiamo ragazzi a combattere contro le nostre amiche piente le piente di plants versus zombies perfetto ragazzi perfetto tagliamo la testa anche gli zombie è tutto assolutamente ok là c'è lo zombie segnaletico lo zombie segnaletico proprio uno zombie cattivone malvagio ok vediamo se posso mettere un'altra cavo il pulta infatti la metto qua ne manca ancora una di cavo il pulta datemi tutti soli possibili per favore datemi soli ecco un altro sole e cavo il pulta molto molto bene ragazzi sta andando veramente benissimo sono anche contento che non sono diciamo non ho mai fatto game over in questo gioco sapete però quando ci sono un casino di zombie beh e quando diventa la difficoltà un po alta potrebbe appunto esserci il game over però a me non è mai successo vabbè in questi video non è mai successo ma vabbè lasciate perdere va ok noi andiamo avanti vediamo un attimo se aspetto che arriva lo zombie con la catapulta e gli zombie d'assalto per vedere un po che cosa fa la rapa ombrello infatti la rapa ombrello vedremo un po qual è la sua utilità sapete ok andiamo avanti là c'è uno zombie segnaletico ecco altri cavoli e mais e burro addosso a quello zombie maledetto ok andiamo avanti beh tolto la testa perfetto ragazzi e ora sta arrivando una gigantesca orda di zombie ok si parte orda di zombie ecco lo zombie con la scala e mi ero dimenticato che c'era anche lui ma tanto sapete tutti quanti com'è lo zombie con la scala dovrebbe anche beh morire subito lo sapete infatti se n'è andato subito però devo dire bella giacca rossa ok andiamo avanti ragazzi andiamo avanti colpiamo a tutti gli zombie possibili zombie normali zombie segnaletici zombie col casco zombie clown zombie cuoco zombie di recbista e tutte le altre che esistono ok noi andiamo avanti guardate che potenza stiamo resistendo alla grande non stiamo neanche usando gli schiacciazombie è una cosa bellissima sapete mamma mia ragazzi sono senza parole mettiamo quale chicco pulte oh occhio zombie d'assalto no perché ah ho capito forse mettere lì la rapa ombrello eh ragazzi scusate oh ora basta ma perché l'ha preso no ma scusate ma perché un attimo so mettiamo qua la rapa ombrello per esempio ma perché ha detto che protegge anche i zombie che succede ragazzi non capisco oh oh attenzione guardate la rapa ombrello protegge il girasole ah ma allora funziona solamente ma allora funziona solamente con i zombie con lo zombie catapulta cioè prima non capisco ma vedete la rapa ombrello non fa niente con gli zombie d'assalto ma allora funziona solamente con lo zombie con la catapulta cioè allora mamma mia allora bene ragazzi però qui ragazzi però dobbiamo rimettere tutto a posto dobbiamo rimettere tutto a posto ragazzi gli zombie d'assalto mi hanno rubato troppe piante maledizione a loro maledizione a loro ecco infatti arriva un altro no non ci credo ha rubato lo schiacciazombie ha rapito lo schiacciazombie no vabbè questa battaglia è troppo divertente ma quindi ho capito c'è la rapa ombrello c'è non fa niente contro i zombie d'assalto fa qualche la rapa ombrello protegge le piante solamente quando c'è lo zombie con la catapulta che lancia le palle da basket si vabbè allora c'è vabbè ragazzi seconda orda di zombie ragazzi una roba proprio wow ok noi andiamo avanti ragazzi vai continuiamo ragazzi continuiamo a combattere so che sto gridando ma veramente voi non so se lo sentite ma ci sono delle voci di là in cucina in sala ma io ragazzi me ne frego si va bene tanto la catapulta se ne va via ma tanto ne abbiamo anche un'altra qui se ne abbiamo ehi tu zombie vattene via ok occhio qua c'è lo zombie attenzione 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 brutti maledetti morite male boom ok ragazzi non manca tanto per finire questo livello che mi sta veramente piacendo ragazzi mi sto divertendo tantissimo ma guardate che roba ok continuiamo ragazzi e andiamo avanti ok perfetto perfetto ragazzi perfetto prendiamo più soli possibili mamma mia che divertimento vedete che plans vs zombies almeno vi sa divertire ci mi sto divertendo tantissimo a fare questa battaglia la gente che dice è un gioco noioso ma gioco noioso come no è un gioco veramente molto molto bello ragazzi io ve lo consiglio di scaricare perché è molto divertente ok perfetto ragazzi altri zombie che arrivano zombie segnaletici adesso sono ma guardate che roba no addio girasole oh la rapa ombrello la rapa ombrello ha mandato via lo zombie d'assalto avete visto mamma mia ok via questo usiamo l'aio qui e lo spostiamo da un'altra parte oh c'è anche lo zombie lo zombie quella cavopulta la come si chiama no rapa ombrello aiuto dovremmo eliminarli però questi sapete ok quello è andato oh sto bene ha un pochino di difficoltà sapete ok andiamo avanti togliamo qui questo e morite e morite male brutti schifosi avanti oh vi volete andarvene sì o no un attimo solo ragazzi mettiamo rapa ombrella ok un altro rapa ombrello qui ok così proteggiamo bene allora qui mettiamo schiacciazombie che elimina quei due zombie segnaletici ok perfetto manca solamente quello zombie e abbiamo finito anche qua ma poi manca ovviamente l'orda di zombie eh 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 bene esploso bene ragazzi prepariamoci ok zombie d'assalto è andato via occhio che arrivano altri zombie attenzione sarà un po' difficile questa lo sento ma non voglio perderla non voglio perderla sapete aia aia ragazzi aia aia aiuto ho un po' di problemi ehi non lo state mangerle oh mo mi ci ho rotto eh muori zombie ok lì ci sono ancora altri due zombie usiamo l'aglio oh zombie coso là è andato via oh vittoria abbiamo sbloccato una pianta che sembra che cos'è la calendula ragazzi la calendula dona monete d'oro ed argento ah perfetto ragazzi ok ragazzi quindi questo è tutto per questo episodio di plants versus zombies andiamo adesso ragazzi a ok ragazzi questo è tutto per questo video veramente scusate se avete sentito delle voci femminili che c'erano è solo che ragazzi adesso è pranzo mi stanno chiamando a mangiare ragazzi scusate però non mi scrivete nei commenti ma si sentivano le voci bla 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 non lo fate vabbè ragazzi quindi questo è tutto per questo video abbiamo completato delle belle battaglie abbiamo sbloccato anche la calendula che in pratica è una pianta che dona monete ma chissà quale è il suo attacco vabbè ragazzi quindi questo è tutto per questo video e noi ci vediamo ad un prossimo episodio di plants versus zombies ciao ciao ciao